Ciao amici di Sbam, come già detto adesso proveremo il Malliker a 200 metri con i big pong metallici per verificarne la precisione di tiro. Coltito. 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 Colpito. Colpito. E vai. Colpito anche questo. Grande fucile. Come on. Ci sei? Motherfucking yeah! Yeah! Haha. Va No We Ed No 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 Grazie a tutti.